Il treppine ha compiuto il grande passo, impressione a caldo sulla promozione? Ma guarda, siamo pienamente contenti. Stamattina è arrivata la grande notizia dal nostro avvocato, l'avvocato Chiacchio, a cui vanno i sentiti ringraziamenti. Mi ha chiamato e ci ha annunciato quella che è stata la più grossa notizia che potevamo aspettare in questi giorni. La revoca del titolo alla gioventù calcio d'auna e quindi ad una classifica riscritta il titolo al treppini. Quindi oggi scriviamo la storia di questo paese, scriviamo la storia di questo territorio e portiamo il treppini Matese in serie D. Che dire, sembra una cosa non vera. Anche perché è arrivata la notizia stamattina, il direttore è venuto a scuola e ha comunicato quello che effettivamente, vi ripeto, sembra un sogno che si è avverato. Effettivamente così è stato. Niente, adesso speriamo che questo sogno vada avanti continui con altre soddisfazioni. Però io devo dire una cosa che il merito, guardate dietro di me chi ci sta, è loro. Sono stati dei ragazzi fantastici che non hanno mollato mai, hanno fatto dei sacrifici enormi insieme al direttore sportivo, che vi devo dire la verità. Secondo me il 50% va a lui, perché lui ci ha creduto, oltre ai ragazzi, lui è stato l'unico che dopo che è finito il campionato ci ha creduto fino all'ultimo. E a dir vero dobbiamo ringraziare soprattutto Carlo Loffrete, il nostro direttore sportivo, se tutto questo si è avverato, perché non ha mollato mai, mai, mai. E niente, che dire, io sono orgoglioso perché come piedimontese, come calciatore che ho militato in questa squadra per tanti anni, cioè andare in serie D con questi ragazzi per me è il massimo che uno possa desiderare. Questo momento storico da incorniciare per Piedimonte, un nuovo tassello alla storia di Piedimonte, cosa diciamo in merito? Sì, siamo molto soddisfatti, è un risultato che viene da lontano e che finalmente sono riusciti a coronare questi ragazzi. Sicuramente complimenti agli atleti, ma anche e soprattutto diciamo alla dirigenza, che sono riusciti a realizzare un sogno che da molto tempo non si avverava. In bocca al lupo i treppini anche per la prossima stagione calcistica, che non sarà semplice, però non sarà sicuramente impossibile. Sei pronto per la serie D? Ma sì, io già ho militato in serie D per due anni, due o tre anni, ora non ricordo preciso. Comunque sì, sono pronto e sicuramente sarà una bella avventura, perché comunque con la squadra del mio paese sarà una cosa ancora più bella. Ma posso accodare a quello che ha detto il Capitano, alla fine un po' ce lo siamo meritati, ci abbiamo creduto finché ci potevamo credere. Abbiamo fatto il massimo, quindi penso che tutto sommato, visto che la giustizia si è dimostrata tale, è tutto di guadagnato. Comunque abbiamo stretto i denti quando dovevamo e penso che ce lo siamo meritati, ci credevamo. E fortunatamente è arrivata la buona notizia, quindi ora penso che festeggiare sia il minimo. Non so se siamo pronti, questo ci penseremo già domani dopo domani, però oggi vogliamo soltanto festeggiare questo grande traguardo che noi tutti abbiamo conquistato e quindi vogliamo solo festeggiare. Io voglio dire che comunque siamo molto contenti, molto, molto, molto contenti. Vabbè Alessa, se vuoi dedicare la vittoria a qualcuno, non so. La mia fidanzata, ovviamente. Grazie Alessa! Grazie Alessandro Grazie a tutti!